In questo video andiamo a vedere una serie di esercizi che possiamo anche chiamare una routine di esercizi da svolgere tutti i giorni. Nel caso questo fosse la prima volta sul nostro canale io mi chiamo Klaus, sono un fisioterapista e fondatore di Fisio Social. Partiamo subito. Ho fatto un video qualche settimana fa che trovi qua in alto in cui andavo a parlare di quello che è l'importanza della routine della mattina, non solo in termini di esercizi ma tutto quello che viene fatto all'inizio della giornata che è poi quello che dà la marcia alla giornata, quello che dà il tono della nostra giornata e questo è molto importante. Quindi se vuoi vedere la parte un po' più teorica e alcuni esercizi che io faccio anche tutti i giorni lo trovi in questo video qua in alto. In questo video invece voglio andare a parlare solo ed esclusivamente dell'importanza dell'esercizio in generale. Quindi che sia svolto la mattina che sia svolto al pomeriggio va bene lo stesso. Importante è fare dell'esercizio fisico. Uno per i benefici che ci dà dal punto di vista fisico quindi le articolazioni, i nostri tendini, i nostri muscoli che rimangono in forma o addirittura se l'esercizio è fatto bene ed è abbastanza intenso che migliorano di resistenza ed aumentano di massa e questo fa solo bene. Come si dice you don't go wrong if you get strong. Quindi meglio essere forti che non si sbaglia mai. E questo è il beneficio primo e scontato dell'esercizio fisico. L'altro beneficio di cui ti voglio parlare è in questo caso io questa routine l'ho pensata come una routine del mattino come una routine che anch'io tutti i giorni faccio e lo faccio questa solitamente o prima di fare l'allenamento che faccio al mattino oppure lo faccio come un riscaldamento oppure lo faccio come quello che riesco nel senso che è una routine che viene fatta abbastanza in fretta e quindi lo faccio quando sono di fretta o quando non ho il tempo per fare un allenamento completo. Allora voglio iniziare lo stesso la mia giornata voglio iniziare la mia mattina con del movimento non voglio iniziarla guardando i video su instagram o guardando qualcosa su facebook voglio iniziarla con qualche cosa di proattivo con qualche cosa di positivo che mi porti nell'umore giusto per partire bene la giornata e per cercare di tenere questo questo umore qua. Ok quindi andiamo a vedere di quali esercizi sto parlando. La prima cosa che faccio è un po' di mobilità generale cerca di farlo a letto oppure con un appoggio morbido sotto le ginocchia. Vado giù e mi stendo bene allungo bene le braccia e in questa posizione vado a fare delle belle respirazioni e torno su. Di questo esercizio qui non vado molto a serie ripetizioni ma lo faccio proprio per il gusto di muovermi e per il gusto di far movimento. Vado giù faccio la mia respirazione e torno su. Ok quindi come dicevo questo esercizio questo primo esercizio non vado a guardare né serie né ripetizioni non conto niente ma lo faccio come una sorta di risveglio. Ok il secondo esercizio che vado a fare è l'esercizio del gatto una mobilizzazione generale della colonna vertebrale. Vado su del tutto e poi mi inarco. Vado su e mi inarco. Ok anche qui non vado a guardare né serie né ripetizioni ma mediamente faccio 1 2 o 3 minuti di questo movimento qua andando avanti indietro e volendo associandolo anche al respiro. Il terzo esercizio che vado a fare sempre con l'appoggio morbido è l'esercizio di superman. Vado a stendere il braccio e la gamba opposta cercando di non cascare ma mantengo tutto fermo e ritorno. Vado e ritorno. Vado e ritorno. Di questo esercizio faccio 4 serie da 10 o 12 ripetizioni. Prossimo esercizio che vado a fare quindi quarto esercizio è un esercizio un pochettino più difficile che coloro che fanno yoga lo possono conoscere. Mi metto nella posizione dei piegamenti vado indietro e poi ritorno giù in questo modo e ritorno su. Volendo lo posso associare al respiro quindi quando scendo butto fuori l'aria e prendo l'aria quando ritorno. Di questo quarto esercizio faccio 3 serie da 8 o 10 ripetizioni. Adesso quelli che fanno yoga non devono guardare tanto la mia posizione a cuneo perché io non pratico yoga. Questo esercizio lo faccio perché mi piace, perché mi piace fare del movimento e perché lo faccio come una sorta di riscaldamento e mobilità generale. Quindi non sto cercando di insegnare yoga a nessuno. L'ultimo esercizio che andiamo a vedere per questa routine è uno stretching dell'ileopsoas. Sempre l'appoggio morbido sotto il ginocchio. Tengo la schiena dritta. Mi proietto, mi porto in avanti. Sentirò tirare tutta la parte anteriore, tiro sul braccio e faccio un bel respiro. Cerco di spingere con la mano in alto come se volessi andare a toccare il soffitto. Ok? Tengo questa posizione per 30 secondi cercando di andare avanti anche con le respirazioni e poi faccio cambio gamba quindi non faccio tutte le ripetizioni di qua poi nell'altra gamba ma faccio prima una e poi l'altra e vado a fare 10 ripetizioni quindi 5 per gamba e basta da 30 secondi quindi 1 2 3 così via conto 30 secondi faccio le respirazioni e ho finito. Benissimo siamo arrivati alla fine di questo video dove abbiamo visto appunto questa serie di esercizi che possono costruire una bellissima routine matutina che può essere svolta veramente anche abbastanza in fretta senza grossi impegni di tempo che però può dare un tono molto positivo alle tue giornate. Questa routine la utilizzo tutti i giorni quando non riesco a fare un allenamento completo mi fermo qui oppure posso aggiungere magari 3 o 4 serie di piegamenti normali sulle braccia altrimenti faccio la routine e poi inizio il mio allenamento della giornata. Ti ricordo che se soffri di dolori muscoloscheletrici di acciacchi vari oppure dolori articolari o vuoi semplicemente migliorare la tua postura migliorare il tuo stato di forma noi abbiamo un pacchetto di consulenze online che si presta perfettamente per questa tipologia di problematiche o di miglioramenti che si vogliono ottenere. Puoi inviarci il tuo caso tramite una candidatura al link che trovi qua in basso e ti sapremo dire se il tuo caso può essere idoneo ad essere seguito a distanza oppure possiamo darti qualche consiglio o indirizzarti in quello che può essere una soluzione adatta al tuo caso. Grazie dell'attenzione e ci vediamo al prossimo video.